Ed oggi finalmente vi racconto questa storia, lo so che quelli grandi non la capiranno mai, ma è bello quando è notte stare zitto ad ascoltare, le stelle sono come dei sonagli da vibrare. Chissà cos'è successo sul pianeta, il nostro amico avrà annaffiato il fiume, speriamo abbia protetto la sua rosa ed abbia eliminato ogni arbusto di vava. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.